L'Unione Inquilini di Fiumicino ha inviato una lettera al prefetto di Roma e al sindaco Montino per chiedere la convocazione di un tavolo di unità di crisi, vista la mancata prologa della sospensione degli sfratti. Nel comune, si legge nella nota, abbiamo una lista in evasa di richieste di assegnazione di alloggi popolari a canone sociale di circa 580 famiglie, un dato sottostimato essendo numerose le persone che neanche fanno la domanda. È evidente che le conseguenze sociali legate alla pandemia hanno ulteriormente acuito tale sofferenza. Cittadini che pur con difficoltà riuscivano a sostenere le spese per l'affitto sono precipitati nel baratro dell'amorosità. Le richieste di contributo straordinario sono più che triplicate rispetto ai bandi ordinari e abbiamo assistito a ritardi clamorosi nella loro effettiva erogazione. Inoltre, prosegue Unione Inquilini, nella provincia di Roma solo nel 2019 ci sono state 2.124 nuove sentenze di sfratto, di queste 1.027 per morosità e 35 per finita allocazione. Attualmente l'esecuzione degli sgomberi è sospesa fino al 31 dicembre, ma le informazioni che vengono dal Tribunale descrivono una situazione agghiacciante di centinaia di sentenze emesse ogni settimana. Una catastrofe sociale incombe sulla città come uno tsunami che si appresta a travolgere la coesione sociale, conclude la missiva.